bella ragazzi buongiorno buongiorno a tutti come andiamo è come è andata la buffata natalizia a parte che non è finita perché oggi comunque è santo stefano e le tavole sono rimaste imbandite da ieri poi ci sono amici che conosco personalmente che anche oggi sono costretti a lavorare di saluto io non abbraccio anche a loro però continua continua il magna magna il magna magna continua si continua a mangiare anche oggi si continua a mangiare anche oggi bene bene ma parliamo di milan lasciando via la stare per un attimo la questione culinaria attenzione perché cambiano un po di cose sul mercato perché notizia fresca fresca dell'ultima ora delle ultime ore è che è che c'è un ripensamento sull'attacco c'è un ripensamento sull'attacco importante merito anche delle ultime prestazioni del del giocatore parliamo ovviamente di jovic jovic che nelle ultime tre uscite ha fatto tre gol se non sbaglio comunque poi si era già mostrato bene anche contro newcastle con quel bellissimo colpo di testa che poi ahimè sfortunato purtroppo è finito sul palo bene la dirigenza sta ragionando sulla non necessità di intervenire con un attaccante perché jovic comunque in un certo qual modo sta bruciando le tappe del rientro del rientro in pompa magna in in maniera abbastanza importante perché ogni volta che entra fa la differenza e questo è un dato importante lo stesso jovic vuole prendersi il milan jovic vuole riscattarsi al milan vuole dimostrare comunque di essere un elemento importante per i rossoneri e lo sta facendo adesso bene io ho sempre sostenuto e voi lo sapete ve l'ho sempre detto di che jovic andava aspettato che jovic aveva aspettato che secondo me jovic è un giocatore di valore e se vuole lo può dimostrare e non ho avuto torto nemmeno stavolta ma non è presunzione è perché io comunque notoriamente do fiducia do fiducia e non capivo perché non capisco perché bocciare anticipatamente determinati giocatori se non hanno ancora avuto modo di dimostrare il valore che possono avere quindi credo credo che jovic sia una soluzione quantomeno intelligente no speriamo che condividete anche voi questa idea jovic però non credo che possa per adesso già giocare da sole non penso che possa rubare la scena a girù perché sapete anche che passe fasul comunque è un personaggio che difficilmente butta nella mischia e lascia nella mischia butta poi tira poi rimette poi tira fin quando non si convince del tutto jovic potrebbe essere un giocatore da fiancare a girù un'alternativa in corsa come già dimostrato o appunto in una doppia un 4 4 2 potrebbe andare molto bene quindi perché no perché invece di affidarsi così precipitosamente sono gurassi della situazione non dare adito ai jovic di poter dimostrare comunque di essere un buon giocatore io credo che ci abbia tutte le carte regola per poterlo fare poi adesso che c'è anche l'europa league secondo me secondo me torna veramente utile visto che un calciatore con una buona esperienza italiana una buona decente esperienza italiana diversamente inserire un nuovo giocatore a gennaio sarebbe complicato perché il tempo di inserimento eccetera eccetera arriva già maggio quindi capite che secondo me ha senso ha senso ha molto senso e oltremodo ti permetterebbe di risparmiare dei soldi che andresti a inserire a diciamo a mettere su reparti in questo momento più urgenza più la difesa che il centrocampo il centrocampo con rientro di benasser è un pochino più coperto la difesa invece ha emergenza quindi quei soldi la li butti sulla difesa e il centrocampo magari può fare qualche piccola sistemazione tenendo conto che partirebbe presumibilmente crunic si potrebbe fare un inserimento in difesa mentre secondo me invece un terzino destro ci vuole e anche un difensore centrale 1 barra 2 ma due difensori centrali a gennaio scusate non li faranno mai e poi mai di questo sono convinto attenzione perché arriva la scelta attenzione perché arriva la scelta anche per quanto concerne il discorso del del post pioli del post pioli imminente perché se pioli cicca anche col sassuolo ragazzuoli miei non c'è più fune d'acciaio che tiene se cicca anche col sassuolo è bella che è finita è bella che è finita e e la soluzione per la quale cardinale cardinello ha deciso di optare è proprio quella di abate abate in questo momento diventa la prima scelta del allenatore traghettatore che conosce molto bene comunque l'ambiente anche se allena la primavera un allenatore gioca un ex giocatore allenatore che sta facendo molto bene che la però la dirigenza rossonera vuole coccolarsi e farlo crescere come allenatore con molta tranquillità ma che in caso di emergenza potrebbe essere buttato nella mischia senza troppo peso ok come traghettatore figura che abate sarebbe dispostissimo a fare certo che poi se abate ti va a vincere lo scudetto arriva secondo fa delle prestazioni eccellenti valuterei anche la possibilità di tenerlo no questo è quello che quello che penso io quindi abate soluzione interna molto gradita la cardinale graditissima da ibarimovic sapete che abate e ibra sono molto 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 amici quindi ad abate probabilmente si potrebbe andare a fiancare anche ibra come sostenitore tra virgolette no come aiuto una squadra allenata da abra anzi da abra ha fatto un mix abate e ibra da abate barra ibarimovic fino a giugno io direi perché no soprattutto se viene fatta senza troppe pressioni nei confronti di abate ma con la consapevolezza di essere un traghettatore ma al di là di questo in questo momento come ho già detto più riprese credo che il fondo lo abbiamo toccato in basso siamo arrivati e peggio non si può andare si può solo provare a risalire ed è chiaro anche che con abate arriverebbero un'altra tipologia di preparatori non penso proprio che vengano tenuti anche perché il dito e la colpa maggiore si sta puntando proprio in questo momento sui preparatori sui 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 fisioterapisti anche se fisioterapisti hanno meno colpa degli altri e anche su milan lab quindi un grosso lavoro di rivoluzione sarà fatto anche su quello abbiamo detto che milan si sarebbe preso 72 ore per riflettere 72 ore per riflettere sul chi o cosa verrà modificato nell'area dei preparatori e tecnica quindi domani domani in teoria si saprà qualcosa speriamo che già un piccolo segno arrivi con magari qualche cambio qualcosa venga rivoluzionato perché così non si può continuare perché 30 infortuni in tre mesi e mezzo quattro mesi è folle è follia pura che nessuna grande società dovrebbe mai 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 accettare hanno aspettato che questa corda non si spezzasse che si bruciasse proprio questa corda per provare a dire ma forse c'è qualcosina che non va meno male che veniste accorti dovete accorgere prima mi ha deluso un po il fatto che una grande proprietà una grande dirigenza queste cose le va a guardare molto prima va a guardare molto prima se ne accorge molto prima e pone un rimedio un freno molto prima di adesso avranno avuto i loro motivi per trascinarsi fino adesso io non li concepisco non li capisco non logicamente non li comprendo però meglio tardi che mai no come si dice bene aspettiamo questo cambiamento e speriamo che sia così fatemi sapere cosa ne pensate intanto vi auguro buon 26 a tutti mi raccomando festeggiate divertitevi rilassatevi mangiate state bene con i vostri cari o con i vostri amici io vi auguro buona giornata non come sempre sentiamo più tardi o domani sempre forza milan e adieu milan e adieu milan e adieu